Sindaco, l'evento di questa sera fa registrare un connubio, un interscambio culturale, un gemellaggio tra la comunità leporanese e quella di Martina. Martina e Leporano, una in collina e l'altra al mare, però con tantissimi punti di contatto. Sicuramente sì, perché le due comunità, anche se distanti a livello chilometrico, sono molto vicini e molto simili. Quindi abbiamo tantissime affinità e comunque origini principiesche per Leporano e ducali per quanto riguarda Martina Franca, ma a via di questo aspetto chiaramente sono due comunità laboriose che hanno più o meno alla base gli stessi valori. Una mostra, quella di questa sera, di alta qualità, un evento che vede insieme la pittura e la poesia, due elevate, due alte forme di arte. Dopo la serata dedicata a Paesiello con il Tedeum, chiaramente siamo andati su altri temi della poesia e della pittura molto legati, fortemente legati anzi all'aspetto culturale che noi comunque stiamo coltivando e continuiamo a coltivare perché noi siamo fortemente motivati e abbiamo come obiettivo la cultura a 360 gradi. Grazie. 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 Grazie.